Audiolibro dal Libro dei Medium di Allan Kardec per il Gruppo della Casa di Timoteo legge Cristina Papani Paragrafo 290 Domande sulle esistenze passate e future 15. Possono gli spiriti farci conoscere le nostre esistenze passate? 15. Dio permette qualche volta che esse siano rivelate, secondo lo scopo, quando ciò è per vostra edificazione e vostra istruzione, saranno vere, ed in questo caso la rivelazione è sempre fatta spontaneamente ed in maniera del tutto imprevista. 16. Ma Dio non lo permette mai per soddisfare una vana curiosità. 17. Perché certi spiriti non si rifiutano mai a questo genere di rivelazione? 18. Sono spiriti burloni che si divertono alle vostre spalle. 19. In generale dovete ritenere come falsa, o dalmeno sospetta, qualunque rivelazione di questa natura che non abbia uno scopo eminentemente serio ed utile. 20. Gli spiriti ingannatori si compiacciano nell'usingare l'amor proprio con pretese origini. 21. Vi sono dei medium e dei credenti che accettano per assoluta verità ciò che è loro detto su questo punto 22. E che non vedono affatto come lo stato attuale del loro spirito non giustifichi del tutto il rango che pretendono di avere occupato. 22. Piccola vanità di cui si divertono gli spiriti burloni al pari di certi uomini. 23. Sarebbe più logico e più conforme al cammino progressivo degli esseri che fossero saliti invece di essere discesi, il che sarebbe per loro più onorevole. 24. Affinché si potesse prestar fede a questo genere di rivelazioni, converrebbe che fossero fatte spontaneamente, da diversi mediumi estranei gli uni agli altri, e dignari di ciò che fosse stato rivelato prima. 25. Allora certamente vi sarebbe evidente ragione di credere. 26. Se non si può conoscere la nostra anteriore individualità, dobbiamo pensare la stessa cosa del genere di esistenza che si ebbe, della posizione sociale che si è occupata, delle qualità e dei difetti che hanno predominato in noi, no, ciò può essere rivelato perché potete trarne profitto per il vostro miglioramento, ma d'altra parte, studiando il vostro presente, potete voi stessi ridurne il vostro passato. 16. Ci può essere rivelato qualche cosa sulle nostre esistenze future? No. Tutto quello che vi diranno certi spiriti su questo soggetto non può essere altro che una facezza, e ciò si capisce. La vostra esistenza futura non può essere fissata prima, poiché essa sarà quale l'avrete fatta a voi stessi con la vostra condotta sulla Terra e con le risoluzioni che avete preso quando sarete spiriti. 16. Meno male avrete da espiare, tanto più essa sarà felice, ma sapere dove e come sarà questa esistenza, ancora una volta, è impossibile, salvo il caso speciale e raro degli spiriti che sono sulla Terra soltanto per compiere una missione importante, poiché a loro la via è in una certa maniera tracciata anticipatamente. 17. Si possono domandare consigli agli spiriti? Sì, certamente. I buoni spiriti non rifiutano mai di aiutare quelli che li invocano con fede, principalmente in ciò che riguarda l'anima, ma essi respingono gli ipocriti, quelli che sembrano domandino la luce e si compiacciano delle tenebre. 18. Possono gli spiriti dare consigli sulle cose di interesse privato? Qualche volta, secondo il motivo, ciò dipende anche da quelli a cui ci indirizziamo. Gli avvisi concernenti alla vita privata sono dati con maggiore esattezza dagli spiriti familiari, perché essi si legano ad una persona e si interessano a ciò che la concerne. Essi sono gli amici, i confidenti dei vostri più segreti pensieri. Ma spesso voi li stancate con domande così insensate che vi piantano lì. Sarebbe tanto assurdo domandare cose intime agli spiriti che sono a voi strani, quanto il rivolgervi per questo al primo individuo che incontraste per la strada. Non dovreste mai dimenticare che la puerilità delle domande è incompatibile con la superiorità degli spiriti. Conviene anche tener conto delle qualità dello spirito familiare, che può essere buono o cattivo, secondo le sue simpatie per la persona alla quale egli si lega. Lo spirito familiare di un uomo cattivo è un cattivo spirito, i cui consigli possono essere perniciosi, ma che sia lontaneci del posto ad uno spirito migliore se l'uomo si migliora egli stesso, i simili con i propri simili. 19. Possono gli spiriti familiari favorire gli interessi materiali con rivelazioni? Lo possono e lo fanno qualche volta, secondo le circostanze, ma siate sicuri che mai i buoni spiriti si prestano a servire la cupidicia. 20. I cattivi fanno lucicare i vostri occhi mille attrattive per stimolarla e emissificarvi in seguito con l'inganno. Sappiate anche che, se la vostra prova di subire tale o tale altra vicissitudine, i vostri spiriti protettori possono aiutarvi a sopportarla con maggior rassegnazione e qualche volta addolcirla, ma nell'interesse stesso del vostro avvenire non è permesso ad essi di esentarvene, nello stesso modo che un buon padre non accorda al suo figlio tutto quello che egli desidera. Osservazione I nostri spiriti protettori possono, in mille circostanze, indicarci la via migliore, senza tuttavia condurci per mano, altrimenti noi perderemmo ogni iniziativa e non oseremmo fare un passo senza ricorrere ad essi, e ciò con pregiudizio del nostro perfezionamento. Per porvedere l'uomo ha spesso bisogno di acquistare l'esperienza sui spese. È perciò che gli spiriti savi, mentre ci consigliano, ci abbandonano spesso le nostre forze, come farebbe un abile istitutore per i suoi allievi. Nelle circostanze ordinarie della vita ci consigliano con ispirazione e ci lasciano così tutto il merito del bene, come ci lasciano tutta la responsabilità della cattiva scelta. Sarebbe un abusare della condiscendenza degli spiriti familiari e farsi un falso concetto della loro missione, interrogandole ad ogni istante sulle cose più volgari, come fanno certi medium. Ve ne sono di quelli che per un sì o per un no prendono il lapis e domandano il parere per l'azione più futile. Questa mania denota piccolezze nelle idee ed è nello stesso tempo presunzione di credere che uno spirito sia sempre in nostri ordini, non abbia altre cose da fare che occuparsi di noi e dei nostri piccoli interessi. È inoltre un annichilire il nostro proprio giudizio e ridursi da una parte passiva senza profitto per la vita presente e certamente pregiudizievole per l'avanzamento futuro. Se vi è puerità di interrogare gli spiriti per cose futili, non ve ne è minore da parte degli spiriti che vogliono occuparsi spontaneamente di ciò che si può chiamare il governo della casa. Essi possono essere spiriti buoni, ma sicuramente sono ancora molto attaccati alla terra. 20. Se una persona lascia morendo gli affari imbrogliati, è lecito domandare al suo spirito di aiutarci a sbogliarsene ed è possibile anche interrogarlo sulle sostanze reali che ha lasciato nel caso in cui queste sostanze non fossero abbastanza conosciute quando ciò si è nell'interesse della giustizia? Voi dimenticate che la morte è una liberazione delle preoccupazioni della terra. Credete voi dunque che lo spirito, felice della sua libertà, venga volentieri a riprendere la sua catena e ad occuparsi di cose che non lo riguardano più per soddisfare la cupidigia dei suoi eredi, i quali forse si sono rallegrati della sua morte nella speranza che essa sarebbe stata loro proficua? Voi parlate di giustizia, ma la giustizia è nello smacco della loro ingordigia, è il principio delle punizioni che Dio riserva alla loro avidità dei beni sulla terra. D'altronde, gli imbarazzi nei quali lascia talvolta la morte di una persona fanno parte della prova della vita e non sa in potere di alcuno spirito di evitarvele, giacché esse stanno nei decreti di Dio. Osservazione Questa risposta lascerà mani vuote coloro i quali immaginano che gli spiriti nulla hanno di meglio da fare che servirci come ausiliari chiaroveggenti per guidarci non verso il cielo, ma sopra la terra. Un'altra considerazione viene all'appoggio di questa risposta. Se l'uomo lasciò durante la sua vita i suoi affari in disordine per incuria, non è verosimile che dopo la sua morte ne prenda oltre interesse. Giacché deve sentirsi felice di essere liberato dalle cure che gli cagionavano e per poco che egli sia elevato, vi attribuirà ancor meno importanza come spirito e non come uomo. Quanto ai beni sconosciuti che avesse potuto lasciare, egli non ha alcuna ragione di interessarsene per gli avi di eredi che non penserebbero probabilmente più a lui se non sperassero di trarne qualche cosa. E se è ancora eccecato dalle passioni umane, egli può fare un maligno piacere del loro sconcerto. Se, nell'interesse della giustizia delle persone che ama, uno spirito giudica utile fare rivelazione o dare indicazioni di questo genere, egli lo fa spontaneamente e non si ha perciò bisogno di essere medium o di ricorrere ad un medium. Egli farà sorgere circostanze fortuite che metteranno in chiaro le cose, ma non lo farà dietro la domanda che gliene viene fatta. Poiché questa domanda non può cambiare la natura delle prove che si devono subire. Anzi, sarebbe piuttosto atta ad aggravarle, poiché è sempre un indigio di cupidigia e proverebbe per di più allo spirito che ci occupiamo di lui per interesse. Paragrafo 292 Domanda sulle sorti degli spiriti 21 Si possono chiedere agli spiriti ragguardi sulla loro situazione nel mondo a noi invisibile? Sì, ed essi ne danno volentieri quando la domanda è dettata dalla simpatia o dal desiderio di essere utile e non dalla curiosità. 22 Possono gli spiriti descrivere la natura delle loro sofferenze o della loro felicità? Perfettamente, e queste rivelazioni sono un grande insegnamento per voi, poiché vi iniziano la vera natura delle pene e delle ricompense future, distruggendoli dai falsi che voi vi fate a questo riguardo, essi tendono a rianimare la fede e la vostra confidenza nella bontà di Dio. I buoni spiriti sono felici di descrivervi la felicità degli eletti. I cattivi possono essere costretti a descrivere i loro patimenti allo scopo di provocare in essi il pentimento. Essi vi trovano anche qualche volta una specie di sollievo e l'infelice che sfuga il suo lamento nella speranza di trovare compassione. Non dimenticate che lo scopo essenziale, esclusivo dello spiritismo è il vostro miglioramento ed affinché possiate raggiungerlo è permesso agli spiriti di iniziarvi la vita futura offrendovi degli esempi di cui potrete approfittare. Più vi identificherete con il mondo che vi aspetta, meno rimpiangerete quello in cui siete presentemente. Questo è, in sostanza, lo scopo attuale della rivoluzione. 23 Evocando una persona la cui sorte ci è sconosciuta, si può sapere da lei se esiste ancora? Sì, qualora l'incertezza della sua morte non sia una necessità o una prova per quelli che hanno interesse a saperlo. Se essa è morta, può forse far conoscere le circostanze della sua morte in maniera da poterla verificare. Se essa vi attribuisce qualche importanza, lo farà, altrimenti se ne prenderà poco fastidio. Osservazione L'esperienza prova che in questo caso lo spirito non è affatto eccitato dai motivi di interesse che si può avere di conoscere le circostanze della sua morte. Se è piacere di rivelarli, lo fa da se stesso, sia per via medianica, sia per quelle delle visioni ed apparizioni. E allora può dare le più precise indicazioni, nel caso contrario uno spirito mistificatore può perfettamente ingannare e divertirsi a provocare ricerche inutili. Accade frequentemente che la sparizione di una persona la cui morte non può essere ufficialmente constatata apporte degli imbarazzi agli affari di famiglia. Non è che in casi rarissimi ed eccezionali che noi abbiamo visto gli spiriti mettere sulla strada della verità dopo la domanda che loro era stata rivolta. Se volessero farlo, lo potrebbero senza dubbio. Ma spesso ciò non è loro permesso se gli imbarazzi sono prove per quelli che fossero interessati a liberarsene. È dunque una speranza chimerica il tentare con questo mezzo il recupero di un'eredità di cui il più positivo è il denaro che si spende a quest'uopo. Non mancano spiriti disposti a lusingare simili speranze e che non si fanno scopo alcuno di indurre a certi passi di cui si è spesso felici di essersene liberati con un po' di ridicolo. Grazie. 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 Grazie.